E' collegata? Buonasera. Buonasera Rula, giornalista, scrittrice, il cambiamento che meritiamo è il tuo ultimo libro e sei in tour in Italia per presentarlo. Io ti chiedo, che partita stanno giocando Biden e Putin in questo momento? La partita dalla sopravvivenza, la partita dalla democrazia americana. Putin ha attaccato la democrazia americana nel 2015 durante la candidatura di Donald Trump appoggiandolo direttamente e indirettamente, scatenando una campagna di propaganda online contro Hillary Clinton ma facendo il hackeraggio al DNC, cioè il Partito Democratico e anche il Partito Repubblicano. Sul Partito Democratico ha lanciato una serie di... ha scoperto, ha fatto scoprire, ha fatto rivelare tutti i contenuti del computer del Partito Democratico mettendo in difficoltà Hillary Clinton seriamente e quindi ha armato proprio l'informazione che aveva nella mano. Rispetto al Partito Repubblicano non ha fatto nulla, aiutando così la vittoria di Donald Trump. Durante la presidenza di Donald Trump l'ha appoggiato completamente Donald Trump, infatti l'ha dato il controllo totale della Siria, l'ha ceduto anche in qualche modo la mano libera sull'Europa, ricordiamo quello che ha fatto in Ucraina, ma soprattutto la domanda principale era di indebolire la NATO, l'alleanza atlantica. In questo stato straordinario perché per la prima volta abbiamo un Presidente americano che ha ritirato le truppe dalla Germania. Biden sa che ha un nemico come Putin, che ha un nemico che avvelena i suoi oppositori politici, sa che è un uomo, un ex del KGB, quindi uno dei servizi segreti, capace di uccidere, capace anche di dichiarare guerra, direttamente agli interessi economici e politici degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Rula, mi è venuto in mente un paragone con quella che fu la strategia di Reagan, quando decise di utilizzare il pugno duro per costringere l'Unione Sovietica a trattare, soprattutto sulla questione dei missili. Sembra che Biden abbia, diciamo, fatto questa scelta, cioè di essere estremamente duro, estremamente rigido, salvo poi, nel momento in cui si sono incontrati, trovare, diciamo, quelli che possono essere dei punti di contatto e poi, come dicevi giustamente tu, è riuscito a rimettere insieme, diciamo, questo gruppo un po' così disperso di leader europei intorno a una comune strategia, che poi è una strategia che in qualche modo fa comodo anche a Putin, cioè quella contro la Cina. È così? Esattamente così, Andrea. Biden non può dichiarare guerra a due paesi importanti, due potenze, la Russia e la Cina, contemporaneamente, quindi ha preferito in qualche modo avere una strategia del contenimento e la strategia di Reagan. Contieni, verifica, ma dialoga. Quindi ha aperto a Putin, ha dato a Putin una chance, una possibilità di dialogare. Quindi ha parlato con Putin, l'ha incontrato durante il G7, hanno fatto una chiacchierata lunga, su cui hanno affrontato una serie di temi. Però Biden sa benissimo che adesso se va al voto in Francia, Putin appoggia tutti i sovranisti europei, da Salvini a Mary Le Pen a Viktor Orban. Qualsiasi sovranista che vuole davvero indebolire l'Europa, destabilizzare l'Europa, l'alleato principale degli Stati Uniti, Putin appoggia tutti questi gruppi, perché per Putin la democrazia è una minaccia. Qualsiasi sistema democratico, un sistema di legalità, di giustizia, ma soprattutto di diritti umani, lui non lo rispetta e non lo vuole. Vuole un paese governato da un dittatore, governato soprattutto da suoi amici, che sono i suoi finanzieri, persone che sfruttano l'economia, quindi se ne approfittano e quindi guadagnano loro, quindi un paese corrotto profondamente, un paese che uccide qualsiasi oppositore politico. Questo è il tipo di paese che ama moltissimo Putin, per questo appoggia tutti i dittatori nel mondo e tutti quelli che sono in Europa con tendenza verso il fascismo, quindi tutti quei gruppi o quei partiti che vorrebbero davvero distruggere la democrazia europea, l'Unione europea e creare un sistema in cui c'è corruzione, mancanza di diritti umani, ma soprattutto una dipendenza da uno Stato come quello guidato da Putin. E questo anche perché naturalmente, diciamo, dividendo, cercando di dividere l'Europa, lui riesce a trattare meglio in maniera bilaterale, paese per paese. Però, diciamo, c'è il problema cinese, c'è la questione europea, ma una questione centrale tra i due è quella del Medio Oriente. Le nuove elezioni in Iran con l'elezione di questo presidente Raisi, che è un ultraconservatore, il quale ha già dichiarato non andrò a incontrare Biden e non ci parlerò se prima lui non avrà tolto le sanzioni, cosa che, insomma, gli iraniani chiedono fin dai tempi della cacciata dello Shah e non è mai avvenuta. E nello stesso tempo in Israele è finita l'era Netanyahu e tutto questo, diciamo, provoca degli interessi molto forti e anche delle reazioni che ci dovranno essere nella politica americana ma anche in quella russa. Come la vedi questa situazione? Il Medio Oriente è la partita sporca di poteri sia russi che cinesi ma anche gli Stati Uniti stessi perché il problema vero di Biden è che quando parla di difesa della democrazia, di alleanza, parla di legalità, moralità e poi ha un alleato Medio Oriente come Israele che dichiara e non solo commette violazione di diritti umani nei territori occupati, si espone davanti a Putin, un Putin è un uomo che ovviamente non ha rispetto di diritti umani, non ha rispetto delle leggi internazionali e è pronto anche a commettere crimini di guerra. Quindi quando Putin incontra Biden gli dice guarda tu puoi parlare di diritti umani ma tu hai alleati in Medio Oriente che sono Mohammed bin Salman in Arabia Saudita, al Sisi in Egitto e in questo momento Naftali Bennett il primo ministro israeliano che tra l'altro è uno che ha dichiarato che va bene uccidere i bambini, va bene uccidere i prigionieri, sta dichiarando, sta facendo un endorsement a crimini di guerra. Quindi Biden è debole perché alcuni dei suoi alleati sono persone che commettono crimini di guerra, sono persone che sono dittatori come MBS che è capace di uccidere un giornalista in un'ambasciata, come anche Sisi che ha trocidato il nostro connazionale Giulia Reggeni e in questo momento ci sono 60.000 prigionieri politici dentro le prigioni egiziane tra cui Esacchi. Quindi sappiamo che questi sono i nostri alleati, quindi Biden si trova davanti a una difficoltà seria perché non può essere consistente, non può difendere la legalità, la moralità, la democrazia quando hai questi alleati. Senti Rula, un'ultima domanda sulla questione Iran. Perché è una questione cruciale, ovvero riprendere i negoziati e quindi scontentare Israele, riuscire a far ragionare la teocrazia sciita che ha il potere ormai dal 1979 sulla necessità di interrompere questo programma di arricchimento dell'uranio che porta alla costruzione della bomba atomica. Cioè lì è una partita, quella è una partita davvero cruciale perché se l'Iran e se Biden riesce a riaprire il negoziato che Trump aveva interrotto con l'Iran riporta l'Iran al tavolo diciamo medio orientale e in quel momento il problema nasce con l'Arabia Saudita e con Israele. Come pensi che andrà avanti? Io penso che bisogna tornare alla trattativa perché i capi dei servizi segreti israeliani, tutti i capi del Mossad, non uno e tanti di quelli sono nominati da governi sia di centro e destra che di centro e sinistra, tutti hanno detto che non c'è una soluzione con l'Iran che non è una soluzione diplomatica, l'unica possibilità è una soluzione diplomatica, una trattativa che chiede all'Iran il trasferimento dell'uranio fuori dall'Iran quindi bloccare la strada per l'Iran di accedere a un'arma chimica, un'arma anche nucleare. Il problema è che quello che si chiede all'Iran non solo, perché l'Iran ha accettato questa condizione, infatti c'è stato durante l'era Obama questo Iran deal, non solo tra l'Iran e gli Stati Uniti, c'erano altri paesi che c'erano l'Europa, c'era la Russia, c'era la Cina e c'erano le Nazioni Unite che monitoravano. Israele e l'Arabia Saudita non vogliono che l'Iran sia una potenza regionale. Il fatto è un dato di fatto, l'Iran è una potenza regionale, è un paese di 80 milioni di abitanti, Israele è un paese di 7 milioni di abitanti, l'Arabia Saudita 26, numericamente è un paese comunque forte, un paese che ha una giuventù molto estruita, molto educata, ha una classe dirigente, come hai detto tu, una classe dirigente molto più teologica, conservatrice rispetto alla popolazione, ma la questione fondamentale, quello è un paese anche potente sul piano militare, non è più l'Iran disastrato di quando arrivò Khomeini, di questo devono tenere conto tutti. Esattamente, è un paese che ha dei missili con raggi lunghi che possono arrivare non solo Israele, oltre Israele, un paese che tra l'altro controlla 3-4 stati nella zona, Siria, Lebanon e in Iraq non si fa nessun governo senza l'appoggio, in qualche modo, l'approvazione dell'Iran. Quindi l'Iran è un paese importante, è un paese forte. L'unico modo per arrivare alla pace è di davvero dare, levare le sanzioni economiche, chiedere all'Iran di tornare accordi in cui smettono di arricchire l'oraneo, quindi smettono di avere un progetto, quello di arrivare al nucleare. L'Iran è disposta a fare questo perché ovviamente la popolazione è affamata, la popolazione ha una crisi economica massiccia, una crisi anche sanitaria in questo momento, quindi vorrebbe arrivare a questo. Il problema è che non possiamo mettere la pestola alla testa e dire o così o no, perché sappiamo che l'Iran è un paese anche che ha resistito per 40 anni sotto sanzioni e per adesso non hanno ceduto. Perché dovrebbero cedere ora? Quindi bisogna avere buonsenso, la logica e trattare con un gruppo dirigente che in questo momento sembra sparire, un gruppo che era disposto ad aprire all'Occidente. Quella finestra si sta chiedendo, Temo. Sì, è vero, anche che però l'Iran è stato sempre sorprendente con una diplomazia parallela, mostrando la faccia molto dura e trattando sotto banco, quindi questa sarà la grande scommessa di Joe Biden. Grazie, Rula Jebeal, il cambiamento che meritiamo. Buona presentazione del tuo libro in giro per l'Italia. Grazie, Andrea. Grazie.